Oggi siamo qui in compagnia di Giovanna Cassolaro, padrone di casa di questa bella giornata, un convegno dove si parla del libro d'esordio di Giovanna, un libro che potremmo definire per certi versi, come si diceva una volta, un romanzo di formazione. Da Napoli a New York, Passaggi in Maremma, non è soltanto autobiografico, perché come tu stessi detto, un libro non è soltanto un libro. Sì, un libro non è soltanto un libro, questo è un romanzo vivente che sa di moderno ed è, come ho detto prima, appunto un sassolino che lancio nello stagno affinché si possano propagare delle onde, delle onde di cultura, delle azioni positive che possono migliorare questo mondo. Jane, la protagonista, affronta prove abbastanza dure, è costretta praticamente a reinventarsi dopo una vita lavorativa, a lottare per l'ingiustizia sociale, quando ad essere messo in rischio è proprio il futuro delle sue figlie, Jane e Mergy. E Jane appunto si lega profondamente alle persone intorno alla sua vita, crea appunto questi legami che sono molto solidi eppure con tanta sofferenza è costretta a reciderli. D'altra parte, nel percorso della sua vita, lei trasferisce la ricerca per l'archeologia alla ricerca interiore e attraversa la sofferenza, lo fa con umiltà, col tentativo semplicemente di perdonare e perdonarsi. Da Napoli a New York, passaggi in Maremma, un titolo molto evocativo perché unisce due continenti, ma come tu stessa hai ricordato, la Maremma, per certi versi un collegamento con l'universo. La Maremma è un luogo del risveglio, un ritrovamento dell'anima, è un'oasi per Jane che appunto tra i tuoi continenti attraversa anche due passaggi fondamentali nella sua vita. Quindi sì, in Maremma lei trova l'amore, la libertà e la voglia di ricominciare. Tanti, naturalmente, a chiederti, in un autografo, una dedica, con questo libro hai dimostrato di raccontare la storia un po' di tutti quanti noi. Sì, Jane interpreta la storia delle generazioni a partire dagli anni 70 fino ai nostri giorni e ne interpreta le contraddizioni. È investita pieno dalla crisi economica, dalla crisi delle relazioni, si ritrova sola ad affrontare situazioni lavorative, situazioni relazionali e soprattutto è costretta a fare i conti con i suoi figli che ovviamente risentono della lunga e provata separazione. E da questo punto di vista, lanciando sempre quel sassolino, il libro esce fuori da queste mura e vuole arrivare lontano, vuole arrivare a dar voce ai ragazzi, ai ragazzi che vivono la separazione e che soprattutto ne subiscono le conseguenze attraverso il disagio scolastico, nelle relazioni, nella costruzione del loro futuro.